Buongiorno a tutti, alle nostre spalle oltre la frontiera che vedete c'è l'Ucraina, un filo sottilissimo tra la pace e la guerra. Oggi abbiamo raggiunto la Slovacchia e siamo a Visne-Nemece, è stato il punto che nel maggior numero di persone che sono passate proprio da qui hanno superato le 20.000, oggi sono molte meno. Ai due pullman stamane abbiamo osservato soprattutto persone, donne, minori e anziani che a piedi hanno attraversato il confine che vedete alle mie spalle, come stanno facendo anche nella parte più lontana che vedete, avvicinandosi e poi l'organizzazione delle Nazioni Unite qui con un presidio per sostenere le persone in fuga e poi la macchina dell'accoglienza. Che sta cambiando? Proprio in questi giorni infatti da un primo presidio qui se ne è organizzato un altro a pochi chilometri che raggiungeremo nel pomeriggio per raccontare queste vite in fuga, la maggior parte di loro, quelli che abbiamo visto con un trolley e addirittura anche una busta, ma mano nella mano e altri si sono ricongiunti proprio oltre il confine. Ci vedremo nella prossima edizione del Tg, dalla Slovacchia in linea adesso a Roma.